In Iraq almeno 20.000 persone sono scese in piazza a Baghdad e in altre città. Un'ennesima marcia contro la corruzione e l'impunità politica per denunciare i servizi scadenti e chiedere al governo di realizzare le riforme promesse. Le imponenti manifestazioni di massa non cessano nel paese, soprattutto nel sud, a maggioranza sciita.